Allora, siamo partiti Taterni ieri mattina, noi del polo chimico Ternano, per fare una marcia a piedi fino a Roma. Ci troviamo a Rignano Flaminio, dopo la partenza di ieri mattina a Taterni, tappa per tappa, passando da Dario, Tripoli, Magliano-Sarpina, eccetera. Siamo arrivati oggi a Rignano Flaminio, arriveremo stasera a Cassa del Giubileo. La marcia sta andando molto bene, abbiamo ricevuto anche dalle popolazioni, dai sindaci, dalle amministrazioni, un grande sostegno. La fatica è tanta, però grazie al sostegno della gente che ci guarda e ci segue, questo ci dà la forza necessaria per arrivare fino a Roma. Il nostro intento è quello di portare la vertenza chimica del polo chimico Ternano, di farla portare a livello nazionale, di uscire dal territorio di Terni fino ad arrivare in un ambito più grande fino a quello nazionale. Infatti noi dobbiamo arrivare domani a Roma e farci ricevere dal ministro Romani che ci dovrà prendere il compito di risolvere il problema della vertenza della chimica del polo chimico Ternano. Finora tutte le iniziative sono state vane e soprattutto quello che ci preoccupa enormemente è il fatto che c'è un distacco, un silenzio soprattutto a livello nazionale perché dal punto di vista locale abbiamo avuto sempre l'attenzione anche delle istituzioni e l'aiuto delle istituzioni ma a livello nazionale c'è stato sempre un silenzio irreale, assurdo perché si parla comunque alla fine tra diretti e indiretti del futuro di mille persone ma anche del futuro di una città importante, strategica come sempre è stato Terni per l'Italia dal punto di vista industriale e della stessa regione Umbria. Abbiamo visto che tutti quanti sono solidali con noi, purtroppo tutto questo ci fa pensare se parliamo di lavoro e per poter parlare di lavoro a livello nazionale bisogna fare un'azione tanto eclatante, purtroppo capiamo che forse non è questa la strada giusta. Noi ci aspettiamo che questa marcia dia risalto a livello nazionale affinché appunto il Ministro intervenga e metta in campo gli strumenti necessari per giungere a una conclusione positiva che salvaguardi il lavoro di tutti gli operai diretti e indiretti del Polo Chimico Ternano. Questo è uno dei tre camper al seguito della committiva, siamo in pausa pranzo, siamo stanchi, morti, dopo una lunga camminata iniziano a uscire fuori le vesciche sui piedi perché insomma è dura però siamo soddisfatti insomma. Dopo una lunga faticata incominciamo le soddisfazioni, il Ministro Romani che ha dato disponibilità di cerci, la gente ieri al passaggio della nostra caruana mentre c'erano le feste di carriano in tutti i paesi ci ha accolto con grande entusiasmo, ci ha incoraggiato, ci ha fatto gli applausi, ci hanno fatto parlare i sindaci, ci hanno accolto, ci hanno rifocillato, quindi questa è una testimonianza che questa iniziativa ci voleva, serviva per dare risalto nazionale finalmente a questa partenza dopo un anno e ci auguriamo che giovedì il Ministro prenda l'atto che insomma c'è una comunità intera che vuole risolvere questo problema. La situazione della chimica, la presenza della chimica è un settore importante per tutta l'economia della provincia e non solo dei Terni e se viene a mancare un pezzo importante di questa economia le crisi, anche le crisi di filiera che si possono generare nel settore possono avere conseguenze anche che oggi non immaginiamo. Con questa marcia noi stiamo cercando di attirare l'attenzione anche dei media nazionali, della gente, della popolazione perché se la popolazione non riesce ad essere informata dei media nazionali è anche all'oscuro di determinate situazioni. Questo è importante perché rimettere al centro queste questioni significa lavorare per uno scopo migliore del domani e vorrei dire rispetto a questo oggi molto anche all'interno dell'industria si pensa solo al mercato, il mercato diventa il fattore primario, dietro nel mercato ci sono le famiglie, ci sono gli uomini, ci sono le donne e con le loro aspettative e i loro bisogni. Dobbiamo rimettere non il mercato al centro ma i bisogni delle persone che lavorano per il mercato. Siamo disposti noi a camminare anche fino in Sicilia per il nostro posto di lavoro, però tutto questo ci fa riflettere, la gente che avvicina, tutti i sindaci che sono stati vicini a noi, tutte le persone che porta un pezzo di mare, tutti quanti noi siamo entusiasti di questo viaggio perché lo hanno chiamato il viaggio della speranza proprio perché siamo partiti con una speranza, ovvero la speranza di far ripartire la chimica a terra. Speriamo che tutto questo porti a qualche cosa, speriamo che domani il ministro Romani sappia tranquillizzarci sul nostro futuro. Grazie. 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 Grazie.